E adesso facciamo un pio di gossip come piace a noi con Chiara Ferragni e Fedez. Chi siano lo sappiamo tutte non hanno certo bisogno di particolari presentazioni. Lui è il popolare cantante rapper, mentre lei è la pungente blogger. I due ormai, fanno coppia fissa da un pio di tempo e sono letteralmente sempre insieme. A tal punto che ormai fonti attendibili di gossip sussurrano che a breve ci potrebbe essere anche il grande annuncio. In attesa del quale vi parliamo però di questa intervista rilasciata grazie da Marina Di Guarda. Ossia vi stiamo parlando proprio della madre della blogger Chiara Ferragni. Ve ne parliamo in quanto, la signora ha conosciuto il rapper durante le vacanze natalizie, e ha detto. Ho preparato a casa di Chiara a Los Angeles il cenone di Natale. A un certo punto Fedez e Chiara mi hanno consegnato una buta. Aggiungi un posto a tavala. Dentro c'era un test di gravidanza mi sono sentita mancare. Per fortuna era uno scherzo. Stessa madre di Chiara Ferragni che a breve sarà in libreria con il romanzo. Chiara Ferragni e il cantante Fedez. Com'è giusto che sia. E racconta proprio in merito a questo libro. Mi frenava la mia grande insicurezza. Era come se dentro mi sentissi dire. Non ce la farai mai. Non puoi cominciare prima di mollare.